Ehi la ciurma e benvenuti in questo video di Untarned io sono mazzetess e sono con Marco 88 raffreddato sì esatto questo video sarà brevissimo per il video che vi ho già pubblicato dovrebbe essere online in cui vi spiego che ho poco tempo per i video eccetera eccetera quindi che dici marcolino andiamo a farci un girettino da una breve spiegazione nel frattempo che sto riempiendo la macchina una breve spiegazione di chi del tempo che hai a disposizione e per il fatto che adesso saranno video da sei minuti quelli che faremo assieme e sarà questione di tempo e di studio per gli esami non ho tanto tempo quest'oggi sto registrando tipo 3 triliardi di video e per poter ricaricare poi nel frattempo ok guida che volevo provare se le parti se mi muovo con te se sto solo sopra va bene ok invece anche io farò video brevi per un altro motivo ancora no no casco rimango fermo là aspetta che salgo ok ok io farò video sì adesso sono con te io farò video brevi per perché mi hanno consigliati quelli consigliato alcuni membri del nostro network di fare esatto di fare video di 6 minuti infatti io sto aggiornando molto il canale almeno utilizzando le end card facendo video di 6 minuti almeno se io sono convinto che funzioni di più fare video di 6 minuti perché è normale che una persona guardi più in percentuale un video di 6 minuti che non uno da 20 minuti no e ed è una gran cosa però io a tal riguardo invece sono sempre stato un po non dire schizzinoso diciamo però tipo perché questo è un Hulk sì sì andiamocene e andiamo alla fattoria magari che dici no vai 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 c'è un Hulk che non magari andiamo a provare qualche altra isola effettivamente anche io sono schizzinoso per sta cosa qua perché no comunque aspetta lasciami finire il discorso perché io faccio video principalmente per il fatto che mi piace fare video no ce la fa la macchina già no no ma l'altro giro me la ce l'aveva fatta e forse perché era un'altra macchina vuoi che provi io a farla salire no aspetta adesso faccio il giro fuori dalla strada no però adesso devo scendere giù perché sennò non mi parte qua in salita andiamo così ecco in eretto ok che caspita stai mangiando lol però ce l'ho fatta hai visto si è andato a parte della collina eh eh best player EU continuiamo con il discorso sì stavo dicendo più che altro perché appunto io faccio video perché mi piace fare video no e fare video di 5 minuti io non gusto neanche il videogioco in quei 5 minuti cioè non lo so mi sembra una cosa abbastanza una toccata e fuga non so non sono solo io una persona che tipo ha un buffet gratuito prende un assaggino e poi se ne va via cioè porca miseria no io mi strafogo e quindi boh 20 minuti mi sembra una durata di tempo che mi piace insomma che dici ci fermiamo qua? sì il problema è il tempo di visualizzazione sì quello è vero cioè ehm penalizza un po' il mio canale però a un certo punto preferisco che sia penalizzato il mio canale piuttosto che il mio divertimento ecco perché oh è sparito lo zoon oddio è spawnato così da zero no no è proprio sparito dov'è? è qua ah ma appare e scompare cos'è? mre guardiamo cos'è? ah è della roba da mangiare eeehm e boh quindi è per qua cioè nel senso non è che oddio voglio fare le cose solo che piacciono a me voglio fare delle cose che piacciono anche a voi ragazzi solo che eeehm fino a un certo punto cioè fin tanto che non è del mio divertimento cioè fare dei video per fare cioè di 5 minuti sarebbe solo fare dei video per far piacere a voi non so se hai capito il mio discorso Marco il concetto è semplice 5 minuti fai più video è vero però ci sono metodi per divertirsi comunque tipo io registro dopo l'audio così mi faccio un video da un'ora e lo divido però è brutto lo stesso eh anche a me non piace tanto registrare l'audio dopo perché non è il momento stesso è tipo se ti spaventi o se ti viene una battuta in quel momento è un'altra cosa proprio io invece mi concentro proprio io mi concentro proprio sulle battute una volta che mi riguardo proprio il video non è che dici faccio le cose a caso proprio prendo e me lo riguardo è come se mi rinvertissi nella situazione poi c'è un altro soccopelo qua non credo che ce ne faremo qualcosa bene mi rendo conto che è difficile però io mi imbedesimo perché mi piacciono i video che registro quindi non è neanche tanto difficile sai che abbiamo già passato i 6 minuti penso che sia il caso di concludere qui il video allora sì tanto adesso ne registriamo un altro dopo almeno Marco sui tuoi tempo ne registriamo un altro dopo e sarà caricato la prossima settimana e continuerete a vedere quello che stiamo facendo qua insomma è come un parte 1 Antarned parte 1 quindi per me è tutto io vi saluto ci vediamo la prossima settimana se ci seguite su Antarned altrimenti abbiamo un sacco di altri video vi invito a lasciare un mi piace a entrambi i video a iscrivervi a entrambi i canali se per caso non l'aveste già fatto i link sono in descrizione un bel commento non fa mai male esatto un bel commento non fa mai male anzi ringrazio l'utente che l'altra settimana mi ha lasciato un commento sotto il video di Antarned grazie mille è proprio molto bello avere dei commenti e rispondere ok ciao a tutti Gianmarco Tototto di nuovo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti